Ehi ragazzi io sono Fere Niki E io sono Stef E io sono Nino No Fere non dovevi aggiungerlo Non c'era bisogno, non c'era bisogno Quest'oggi torniamo a vedere un po' di video di Most Satisfying Quella roba lì bellissima che ti è che solo a vederla ti dovrebbe rilassare E darti soddisfazione eccetera eccetera Ovvero Nino Ovvero Nino Quindi oggi guarderete Nino per 10 minuti E finisce così il video E' un monellino ragazzi Si è appena svegliato Tipo da 5 minuti Quindi ancora la faccia addormentata Però il problema è che ancora mi agola Mi agola tantissimo Perché ovviamente sto cercando i fratellini La mamma con cui era abituato a stare Quindi ancora ci sta facendo dannare sto monellino Oggi abbiamo iniziato a tipo registrare alle 10 E sono tipo alle 7 e mezzo Perché dovevamo costantemente fermarci Stare con il gatto Tenercelo con noi E' stata una bella giornata E' stata una bella giornata Però è carinissimo Quindi va tutto bene E' troppo bellino In ogni caso Va in giro Quest'oggi vediamo Non dobbiamo vedere Vieni qua Ninetto Che poi ti fai le unghie ovunque Ti fai le unghie Nei nostri tappettini Sura bravo Ciao monello Vabbè Stef Iniziamo Perché altrimenti parliamo solo di nero Qua stanno volando un sacco di peli Ma però mangiati i croccantini Sta di pesce Senti come sta di pesce Soprattutto se ti miagano in faccia Ok partiamo Stef Con il primo video No Stef Ci stiamo votando i bacini L'ho notato Però ti devi calmare un pochettino Vai Con il primo video Forza Stef Stai guardando? Si sta guardando anche nero Ok queste ce le ho presenti Le presse che distruggono tutto Vediamo un pochettino Ok Ma Se va sotto che soddisfazione C'è Dicevo non ha senso come video E invece è carinissimo Bellissimo Bello Solo che ogni volta che vedo queste cose Non per fare quella che rovina tutti i giochi Ma penso Poi come fai a pulirlo È una cosa sopportabile Ma qua sono in una fabbrica Quindi ci può stare Che cavolo è sta cosa? Che materiale è? Sembra uno slime gigante Che ha creato una bolla Bello Non fa lasciarlo libero Ve l'ho detto che sta ancora miagolando È tutto il giorno così ragazzi Se o dorme o miagola Esatto Allora fammi rivedere Vai È gigante sta roba Si È un materiale che ho visto Forse l'ha fatto anche qualche youtuber Che lo riempivano d'acqua Non è la stessa roba Bravo Si in silenzio Il silenzio è la virtù Dei gatti carini Dei gatti carini e bravi Ok Stef Passiamo al prossimo Ci siamo Per caso lo vado a mettere nella cuccia Esatto Allora Allora questi di quelli col cibo Oh Ah però Questi mi piacciono Mi fanno venire fame Allora è per quello Questi sono dolce Bellissimo Stacca buona Come si chiamano il gelato Il Non lo so Dai che esce fuori così Il Non so cosa mi vuoi dire Che sono le palline Singole di gelato Un tartufo Più o meno L'altro E non mi viene Stef Non so bene Comunque è una cosa normalissima Io di quel tipo di gelato Ok Ah Cioè tipo si incollano la moneta E dopo di che le attacca È una moneta particolare Non è proprio una moneta Beh però Non si attaccherebbero in questo modo Però è di quelli che ci sono Anche le app per cellulare Che li completi pixel per pixel Però questo è fatto Nella realtà È una figata A me piacerebbe fare Ste cose Secondo me questo Sarebbe rilassantissimo Sì Questo deve essere bellissimo Molto molto male Cioè Devi essere un pazzo Vedo Nino Eh tranquillo Nino comportati bene Guarda gioca con questi Che ti piaci No Fere Non faglieli scoprire Che poi mi ha Già quando il pigiama Mi attacca Attacca al microfusore Nino la vuoi anche tu Un pezzo di mela Allora Io ho una cosa da dire Per gli Asmr Come si chiamano Potete farli solo Se siete un cane Perché il cane è carino Che mangia la mela E fa tutti i rumorini Le persone no Ma bene La stessa cosa Il stesso concetto No sai che cosa cambia Lo vedi che il cane è pulito e composto Le persone quando fanno gli asmr Si ingozzano Per fare Per fare Mentre lo dicevi Gli è caduto un pezzo di mela gigante Si ma non si sporca il muso Ti dicevo Si ingozzano Per cercare di fare più rumore possibile Quindi iniziano a sbrodolarsi Tutti e continuano a mangiare Tutti sbrodolati Quindi quello fa schifo Allora Il cane invece è carino Io non ho voglia Quindi l'asmr È solo se siete un cane Altrimenti no Con l'asmr Questo è soltanto un cane Che mangia la mela Non è un asmr Si che è un asmr Se tu senti dalle cuffie C'è lui che fa Il rumore della mela Ah Di che altro è bellissimo Sto cane Guarda che carino Bellino no Bellone Enorme Che carino Secondo me di quelli alti 100 mila metri Vabbè Nina sei un paccio sei Dai Steph che c'è il prossimo Bello Che cos'è sta roba Non ho idea Ah ma è tipo carta Eh Credo Però l'ha tagliata La perfezione Allora Fere Facciamo una breve interruzione Esatto C'è un monello sei C'è un monello Non puoi miagolare tutto il giorno Ti porta a cuccia Che magari hai fame O cosa del genere Ah fra poco Doveva andare comunque A fare i bisognini Ah ecco Però ha continuato a lamentarsi Anche dopo averli fatti Quindi non è cambiata Molta la situazione Nina arrivederci Vai Poi andiamo subito Appena finiamo il video Ok slime Non è proprio Slime Più budino Sembra un budino di slime Ok Ok Questo forse lo adoro Ma la stai La resa incandescente Esatto Ok Ho schiacciato Wow Che figata Questo L'effetto è stato stranissimo È stato stranissimo Perché la si ha sciolto Si ha distrutto Io pensavo Che tipo si squagliasse Si appiattisse tutto Invece non che passasse Così attraverso la rete E facesse ancora Quell'effetto budinoso Guarda che figo È stranissimo 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 Questo mi è piaciuto Molto 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 figo Questo molto molto bello Prossimo Ah sto su stile Si Cos'è sta roba Hai detto lì l'audio Che è fastidioso Eh che ne so Steph Portano ste musiche Via Non le vogliamo sentire Basta Via Non lo so Sembra una sorta di palloncino No No È molto più liquido Forse è un pallone d'acqua Che però è riuscito a non esplodere Rimbalzando a questa forza Su una rete Si e poi torna indietro Perché torna indietro Si esatto Molto strano Che strano l'effetto Come lo fa così a rallenti Vabbè queste sono le cose Dello slow motion Fighissime Esatto Carino anche questo Allora Quelli del cibo Per me sono i miei video preferiti A livello di satisfying E non crolla No Come è possibile Come è possibile Questa è la magia Steffa è la magia È la magia per rendere un gelato buonissimo Figo Ma che sapone è Però aiuto Mi fa paura Non è che ti tagli Ah beh ce la saprà gestire Ah no mi fa paura Ma che sapone è No in pratica Allora da quello che sono Tagliuzzano già loro il sapone Poi lo tagliano di così Sono saponette normali Capito Però loro l'hanno tagliato così E quindi poi fa questo effetto Quindi l'hanno già fatto a quadratini Esatto E poi le persone queste cose le ascoltano per rilassarsi Capito Ascolta il rumore che fa Che sarà Ve li faccio anch'io i rumori E così vi rilassate Sono anche più belli di quelli che mangi Il rumore del sapore che E che dovrò rilassare il Prossimo video Ok Senti che questo fa Però Una cosa così gigante In casa lo vorrei Non tanto per il rumore Forse ci ficherei la testa in questa roba No e poi non riesci No di testa ci voglio andare Ci vediamo Che bello Che bello Inglopato E sta miagorando Vai si è di nuovo di quelli Ma lo stesso È lo stesso tizio Sì suppongo di sì Le inquadrature mi sembra Anche i budini Sei in contemporanea Vediamo come li fa Ok Questi mi fanno venire ansia Piano piano sta iniziando a uscire Che strano tutti insieme Però questi li ha schiacciati di più Vedi È l'effetto che mi aspettavo Perché non ha reso tutto incandescente Secondo me Esatto E quindi alcuni li ha dovuti schiacciare di brutto Esatto Non ho idea di cosa sia Ma è fighissimo Questo forse è il più bello di oggi Cos'è? Non lo so Che cos'è? Non riesco a capirlo Non lo so È un figato però eh Di nuovo? Evidentemente ha più strati Però penso sia finito Perché c'è il cilastro Che cos'era? Non ho idea Reguriamo l'inizio Questo è il più bello Che abbia mai Qua che bello Questo è bello Ma che feeling Sembra tipo cotone Ma non lo so Cotone pressato forse Che quindi tagliato fa così Forse cotone pressato Esiste il cotone pressato? Non lo so Però evidentemente esiste Non so ma vorrei toccare quella cosa Vediamo questo Ok È uno slime molto slimoso Che figo Sembra acqua A me sembra mercurio Ma che è Stef? Non puoi No dico Però non ti dà quel feeling Vabbè ma è uno slime fatto di preposito Che figo Di colore era mercurio Ma anche lo stile di come rimaneva materiale Che rimaneva Che odiava la materia Ok Questi li schiaccia tutti voi Sono di quelli che schiacciano Sì Si divertono con poco Bello 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 Questo è diventato un colore unico Schifoso E quello non ci piace più Wow Come una volta a farlo luminoso Scusate Che diavolerebbe questa? Ma è falso adolescente È possibile Lo è? È chiaro Voglio sapere come si fa sta roba E poi cos'è? Sabbia? È tipo La sabbia cinetica Mi sembra Giù di lì Magari un po' modificato Come materiale Esatto Perché la sabbia Però è lo stile quello Sabbia cinetica Super colorata Evidentemente quando le diavolerie Le mischiano con altre cose Bello bello Uh guarda Anche quelli del centro Esatto Eh vabbè che figata Mamma mia Io non potrei lavorare qua Perché mi verrebbe da metterci la mano Nel vetro incandescente Ma guarda poi com'è preciso Oh sono troppo bravi Questi sono belli Questi mi piacciono davvero Da vedere È assurdo È assurdo Cioè Guarda non si spezza neanche È talmente preciso e delicato Che non si spezza neanche E adesso come la taglia Vediamo Di solito tagliano con le pinze L'avevamo visto Ok sta finendo Sta togliendo l'ultimo pezzetto Vedi con le pinze Perché comunque è pur sempre vetro Steph quindi è bello Erano in tre Solo per fare questa cosa comunque Guarda questo mi è piaciuto un po' Ma la precisione che hanno è impressionante Anche questi che tagliano il sapone È sapone Sì Ma come fai riconoscere che è sapone Allora c'è scritto sotto Eh ma si vede anche Steph che è sapone Per me no Non riconosce una saponetta No È una saponetta da bagni Chi la vita ha una forma di cuore blu Eh sì Sono di tutte le forme Le sapone Eh ma mica la racconto Se tu non le usi le saponette da bagno Perché noi non le compriamo Abbiamo sapone liquido Ma esistono davvero di tutte le forme Quindi è facile riconoscere Ma non mi sembra materiale di sapone È carina perché è trasparente Quindi vedi sempre sotto come taglia Quindi risulta carina Però non mi fanno impazzire i tagli di sapone Vi dico la verità Ci sono cose molto più interessanti Come i cagnolini Che mangiano i pezzi di mela Quelli sono bellissimi Adesso è pisata Ok andiamo ai prossimi Ok Ah vabbè quindi slime Esatto Però gli ultimi due sono squishy È impossibile No penso che siano No no si rompono Guarda vedi Uno squishy Ma perché inglobano tutto Non lo so E questa è la cosa che non capisco Consolini Allora io da quello che ho capito Alle persone piace vedere e mischiare Però a me poi finisce che dispiace Perché dico scusa Hai fatto tutte quelle cose carine Quelle forme E le devi rovinare schiacciando Io le terrei così per sempre Quindi boh Guarda 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 Mi scuglio Dico non si capisce nulla Cioè le palline ci stavano Però dici cavolo L'ora di nuovo carino E lo rirendono orribile Esatto Guarda eh Adesso Vedi che Che cos'è Come l'altro Diventa coloro schifo Sembra Marte Sembra Andiamo su Marte Basta ti cambio video Ok anche questi Ah questo è il contrario Vedi 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 che è il contrario Prima li schiacciavo In un senso Questo li tira Basta Ma non dà molto l'effetto Ora è bello Ora è bello Ora è bello L'inizio E poi distrugge tutto Tu fai è bello E poi Ce l'hanno Distruggo Ti piace Te lo uccido Capito Prossimo Steph Un guanto Ah queste sono quelle palline Con l'acqua Che si usano anche nei vasi Ce li presenti Sì 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 Che se ci metti un sacco di acqua Diventano più grandi No diventano poco più grandi di così Però assorbono l'acqua La tengono Quindi tu ci puoi mettere i fiori Come se fosse un vaso d'acqua Ma un fiore con tutti Capito Non hai capito Mia mamma ce li aveva a casa i fiori Con queste palline Tengono l'acqua Quindi ad esempio Sai che tu metti un fiore Nelle un vaso d'acqua Invece puoi usare queste Quindi fai il vaso tutto colorato di palline Con i fiori Una scarpa Questa è come fanno le scarpe Figata Vedi questo però Che precisione Questo però me lo dà il feeling E questo è anche bello Guarda 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 quanto è veloce Ma poi è precisissimo Vabbè sono persone che sicuramente Lo fanno tutto il giorno Però bello 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 Abbiamo finito Abbiamo visto tutti i video Qual è il tuo preferito Come sempre diciamo Il nostro preferito Me lo sono dimenticato Anche io me lo sono dimenticato Non lo ricordo più Cosa stai facendo Me lo posso ricordare Il mio preferito Mi stai riguardando da lì Stef Sta riguardando la cartella Con tutti i video Il mio preferito L'ho detto Qual era il mio preferito Fai Ho detto cavolo Questo mi piace un sacco E me lo sono dimenticato Ma come te lo sei dimenticato A me forse guarda Forse questo Ok Quello della moneta Con le pallinette gialle Io voglio fare sta roba Ma si trova secondo te Non lo so Mi piacciono queste cose Che proprio ti rilassano Ma però mi piacciono più da fare Che da vedere Comunque il mio preferito A parte i dolci Che mi sono piaciuti tutti Forse quello della pressa Quando escono tutti i colori Che sembrano Oh tipo Mi è piaciuto molto Mi ha sorpreso Proprio quell'impatto Beh si sorpreso si Però non così tanto bello In ogni caso Ci fermiamo così Che andiamo a Daninetto Che piange tantissimo No si è calmato Sembra che è bello Qualche minuto Un bel po' No no si è calmato Si è calmato Speriamo In ogni caso Ci fermiamo Spero che il video vi sia piaciuto Qua sotto con poi gli altri video Ovviamente usciranno altri video con Nino Ma ci vuole un pochettino Perché volevamo fare l'incontro con Nami Ma dobbiamo aspettare un bel po' Perché si deve ambientare Altrimenti rischia di odiare Nami Poi succede un fatto tra Che ci mettiamo un sacco di tempo ad abituarli Quindi dobbiamo aspettare un pochettino Ci vorrà ancora un bel po' di tempo Esatto Infatti stiamo cercando tipo Il momento in cui Nino è calmo Ci prendiamo Nami in stanza Per farle un po' di compagnia Per non farla in gelosina E il momento in cui Nino Invece è un pochettino più scatenato Ci prendiamo Nino E rimettiamo Nami nel corridoio Che poi Nami rimane buona Cioè rimane buona nella sua cucia Scudinzola Però Nino non è molto felice di vederla Quindi piano piano Li dobbiamo far conoscere Prima o poi ce la faremo In ogni caso arriverà A posto avete capito tutto Ci fermiamo Non lo dico davvero Chi capirà capirà Chi non capirà non capirà Arrangiatevi Qua sotto con i miei altri video Iscrivetevi al canale Cappellino E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao